Siamo Michi, lui è l'uomo d'acciaio e adesso daremo una dimostrazione di hackeraggio di una delle reti più diffuse negli Stati Uniti Siamo Michi Una volta devi uscire da questa, stai zitto, porta il tuo cazzo di culo fuori, porta il tuo cazzo di culo fuori, porta il tuo cazzo di culo fuori, non mi devi parlare sopra, non mi devi parlare sopra, avrai 300.000 iscritti ti fiscio in faccia, esci ora da sta cazzo di live, esci ora da sta cazzo di live Non me ne frega, ma ditemi come cazzo di culo fuori, no hai rotto il cazzo, hai monopolizzato tutto, ma che cazzo applauso, non viene da applaudire in faccia, coglioni di culo fuori, una bambina, stia trova da solo, devi stare zitto, devi stare zitto, esci da sta live, ora, lo capisci o no? Chiudi la live, 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 chi Grazie a tutti.